Gianluca Tredici, capitano della Castellano Udas, dopo la delusione della sconfitta di Campli, adesso il esordio in casa contro il Giulianova e c'è occasione per riscattarsi. Sì, stiamo preparando meglio la partita di domenica, dobbiamo toglierci schiaffi da faccia di domenica scorsa e vogliamo regalare la prima gioca ai nostri tifosi. Senti Gianluca, cos'è che non è andato nell'approccio a Campli? Beh, diciamo che l'approccio non è stato malissimo perché all'inizio eravamo avanti, solo che poi abbiamo avuto delle difficoltà ai minuti successivi, non abbiamo eseguito alla perfezione il nostro piano partita andando in confusione. Diciamo che personalmente credo che l'emozione dell'esordio ci abbia fregato. Senti, la settimana come l'avete trascusa? Molto serenamente, mi è piaciuto molto l'atteggiamento dei miei compagni da martedì che dopo che abbiamo parlato insieme nello spogliatoio abbiamo cambiato letteralmente l'intensità, che era la cosa che ci è mancato domenica. Un'ultima domanda capitano, Giulianova come te l'aspetti? Mi aspetto una squadra simile a Campli, molto rognosa, che mette pressione su ogni pallone, ho visto che hanno vinto dopo che sono stati 17 punti sotto negli ultimi 4 minuti, l'hanno vinto a supplementare, quindi sicuramente verranno qui molto combattuti e butteranno in sangue. Grazie. Grazie a te. Grazie.